Ciao amici! Ciao a tutti! Come state? Noi bene! Siamo un po' presi! Perché? Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? La valigia! Stiamo preparando la valigia! Perché venerdì andiamo in... Piaggia! No, no, in vacanza! Andiamo al mare! Andiamo nelle nave? Eh sì! E figlio Gabri, anche mamma vita, prenderà per la prima volta il traghetto! Per andare dove? In Sardegna! In Sardegna! E noi non vediamo l'ora! E ora figlio Gabri ci fa vedere come si prepara la valigia! Perché lui è diventato grande! Eh, vedete? Hai compiuto cinque anni, è vero? E quindi ci fai vedere come prepari la valigia! Se non avete visto il mio video di compleanno, cliccate qui sotto! E' vero! Perché c'è il video della torta di Pikachu che mamma vita ha fatto per figlio Gabri! E' vero? Com'era? Sì! Bellissima! Bellissima! Ed eravamo al McDonald's! Abbiamo festeggiato con il panino e abbiamo spento la cannellina, è vero? Sì! Dai, sei pronto? Ci fai vedere come prepari questa valigia? Yes! Vai, pronti? Via! Allora, vediamo come figlio Gabri mette la roba in valigia! Sei pronto? Vai, vediamo! Eh! Questo cos'è? Questo è un pantaloncino! Eh sì! Quindi si piega... Allora, prima si fa... Allora... Come si fa? Vediamo! Contrario! Si mette al contrario! Sì! Poi... Upp! Si fa così! Si piega! Così! Quif! Sì! Wow! Poi? Poi si piega ancora... Eh? E si mette in valigia! Bravissimo! Un pantaloncino, poi... Pantaloncino? Due pantaloncini... No! Un altro pantaloncino! Sì, sì! Ok! E qui siamo pieni di vestiti perché... Stiamo scegliendo quali vestiti portare! Perché figlio Gabri vuole tutte le sue cose! Le magliette colorate! Poi cosa vuoi più? I giochi per il mare! Vuole tutto! Vorrebbe portarsi tutto a casa! Vorrebbe portarsi tutta la sua casa! Eh sì! In spiaggia! Eh ma non si può, se no non ci fanno andare! Voi amici avete mai preso il traghetto? Sì! Avete mai preso il traghetto? Com'è? È bello prendere il traghetto? E noi non l'abbiamo mai preso, sarà la prima volta, viaggeremo di notte e figlio Gabri dovrà dormire sul traghetto! Eh? Poi? Anzi, amici, iscrivetevi al canale e lasciate tanti like se volete vedere la nostra vacanza e se volete che facciamo tanti video al mare, sul traghetto, quindi mi raccomando mettete tanti like e iscrivetevi in tantissimi... Sì! Dobbbero arrivare tantissimi iscritti! Tantissimi iscritti! Eh sì! Ecco, figlio Gabri nel frattempo... Prepara ancora la valigia! Yes! Ora, stai mettendo cosa? Wow! I pantaloncini! Hai messo già quattro pantaloncini! E quanti pantaloncini serviranno? Tanti! Tanti! Ma perché? Quanti giorni resteremo? Eh, dieci! Bravo! Dieci giorni! Eh sì! Dieci giorni, figlio Gabri! Giocherà con la sabbia! Ma cos'è che... fai sentire, tui amici, cos'è che ti piace fare di più al mare? Giocare! Giocare con? La sabbia! La sabbia! Quindi ti piace fare cosa? Eh... Castelli! Tutto! I castelli! Tutto! 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 E poi anche abbiamo comprato cosa? Le bocce! Le bocce! Quindi amici, faremo anche un video mentre giochiamo a bocce, così vi facciamo vedere chi vince! Chissà chi vincerà! Eh 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 eh! Chissà chi vincerà! Eh 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 eh! Allora, qui stiamo mettendo ancora i pantaloncini? E dopo toccherà le magliette però, eh? Sì! Qualche maglietta! Cosa vuoi fare? Vuoi andare nudo? No! Ah, quindi le magliette servono! Ok! Eh sì! Ok! No! Ok! Ma, di un po' ai tuoi amici, ti sei divertito al tuo compleanno? Sì! Sì! Ma hai detto cosa hai ricevuto? Hai ricevuto anche il biglietto per... 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 Per le Olandia due volte! Eh sì! Per le Olandia! Ma due volte! Due ingressi! Dovevamo andarci il giorno del compleanno però... Era brutto tempo! Pioveva! E quindi abbiamo rinunciato però ci andremo presto! E poi ritornate il sole! E poi sì! Poi è uscito un po' di sole però ormai era tardi e quando si va all'Olandia si sta lì tutto il giorno perché è bellissimo! Eh sì! E quindi... Non vedi l'ora! O se sei bastato all'Olandia! Ma tu chi hai incontrato all'Olandia? Hai incontrato tanti personaggi! Leo e Mia! Che vuoi rivedere anche quest'anno? Leo e Mia! Leo e Mia! Ah, vero e giusto! Eh, e poi? E poi quest'anno c'è anche Blui! Blu e Bingo! Blu e Bingo! Quindi andremo a cercare Blu e Bingo! Sì! Eh sì! E faremo un bel video quando saremo lì all'Olandia! Però prima abbiamo la nostra vacanza in Sardegna! E partiamo quando? Venerdì! Prendiamo il... Traghetto! Traghetto! O draghetto? Il draghetto! Il traghetto! Traghetto! Bravissimo! Allora, qualche maglietta la mettiamo? Mettiamo qualche maglietta ora? Questa! Eh sì! Questa è la nuova maglietta! Sì! Non l'hai mai usata mai! Non l'hai mai usata ancora? No! Ah! No! Dove vai? La mettiamo in maglietta! Poi cosa serve? Amici, se avete dei consigli da darci per ciò che può servire per la nostra vacanza, noi li accettiamo! È vero! È vero! Eh, sono ben accetti i vostri consigli! Li accettiamo tutti! È vero! È vero! Maglietta! Piegata! L'ho piegata la maglietta! Hai piegato la maglietta? Sì! Bravissimo! Ora la mettiamo in valigia! Ora la mettiamo in valigia, sì! Eh, noi qui siamo già pronti con la valigia grande, l'acqua da portare, è vero? Vero! E poi dobbiamo mettere i giochi da portare! E poi l'arancione! L'arancione! E l'arancione! Wow! Anche questa è bellissima, questa maglietta! Anche questa è nuova! E tu l'hai fatto in video! Eh, l'ho fatta vedere nel video! Bravo! Nel video dell'altra volta! Eh sì! Quando te l'ho comprata! Te lo ricordi benissimo! Eh sì! E chissà come si abbronzerà Gabriele! Poi al compleanno cos'hai avuto anche? Il secchiello nuovo! Oh! Allora... È vero? Sì! E poi cosa hai avuto anche? Dillo ai tuoi amici! Eh... Il lego! Il lego! Poi... Che cos'è per il mare? I giochi per il mare! I giochi per il mare! E le scarpe di... Di... Super Mario! Che si... Illuminano! Le scarpe che si illuminano! E poi hai avuto un buono per il McDonald's e siamo andati a mangiare il giorno del tuo compleanno! Il compleanno! Eh sì! Vuole... Guarda! Guardiamo questa maglietta! Wow! Di Batman! Ma è bellissima! C'è un'altra! Hai un'altra nera! Sì! Poi la faremo vedere! Quella nera! Faremo vedere! Sì! Allora! No! Allora! Questa maglietta poi... Oh! Ok! Allora! Prima! Si mettono le maniche qua! Sì! Certo! Doi! Whip! Ah! Questo è un nuovo modo di piegare le magliette! Bravo! Whip! 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 Ma così si piegano le magliette! Eh? Così si piegano le magliette! Ah! Le troveremo belle... Belle... Pronte e stirate! Sì! E calde! Calde! Non sono calde! No! Non sono calde! Mamma! È bellissimo preparare la valigia! Ti piace preparare la valigia? Sì! 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 Va bene! Sono contenta! Allora continuerai domani a prepararla tutta tu! Sì! E mamma non farà più niente! Sì! Va bene perché la tua valigia... Mamma ti aiuta però! No! 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 Non devo neanche aiutarti! No! Va bene! Non ti aiuto! Tu hai preparato la tua valigia! Va bene! Allora alla fine, quando sarà pronta tutta la valigia, faremo vedere ai nostri amici come l'avrai preparata! È vero! Ok? Sì! E tutto quello che dovrai portarti! Ok! Va bene? Sì! Ciao amici! Mi raccomando! Iscrivetevi al canale e lasciate tanti like! A presto! Ciao! Ciao!